O riparte l'economia del paese, al di fuori che chi ha colpe deve pagare, devono uscire i nomi, assolutamente. Io so che comunque in Toscana una commissione d'inchiesta l'avevamo chiesta noi come Lega e è stata fatta, per cui si potrebbe partire già da lì. E queste persone li vanno tolte assolutamente anche personalmente, bloccati beni, e si va a prendere anche il patrimonio personale di chi ha sbagliato. Il primo è pago, anche ieri lo ha detto in aula, ovviamente dovrà pagare. Però bisogna farlo con dei tempi un attimo, perché ora delle banche noi stiamo parlando, però posso dire anche le persone che aspettano i soldi che sono stati truffati dalle banche, sono ancora lì a aspettare, se non una parte gli è stata ridata, bisogna dimostrare quanti soldi hai, perché se hai abbastanza soldi in banca non te li ridano, per cui insomma oltre a dire bisogna andare un attimo sul concreto, se non prendiamo in giro i cittadini.